oggi vi presento la routine di notte sicuro che quelli che avete visto il video della scorsa settimana avete pensato ma lui non si cambia la camicia solamente a questa camicia di lino griglia no ne ho tante ma come vi dicevo nel video della scorsa settimana parlare della routine di giorno e di notte sarebbe sarebbe difficile perché il video diventerebbe troppo lungo quindi ho deciso di dividere il video in due la routine di giorno di mattina che ve l'ho spiegato la scorsa settimana e che lo trovate nel mio canale di youtube per quelli che non lo avete visto e la routine di notte che ve la spiego adesso ho fatto il video tutto così e adesso l'ho diviso in due parti quindi sì che ho altre camicie me le posso cambiare in altri video mi vedrete con un altro outfit ma andiamo a parlare della routine di velezza di notte intanto vi dico ciao a tutti vi saluto a tutti buongiorno benvenuti buonasera buonanotte non so quando mi state vedendo questo video per quelli che non mi conoscete io sono luis campos sono chirurgo e medico estetico lavoro e vivo a milano lavoro principalmente a milano perché un po mi esposto e questo accento non è milanese non è neanche italiano è un accento spagnolo perché sono spagnolo ma vivo da tanti anni a milano per quelli che non mi conoscete benvenuti piacere di conoscervi piacere di salutarvi se vi interessa il mio canale tutti questi video consigli questi video tip solamente che vi dovete prendere 5 secondi andate sotto e vi potete iscrivere al mio canale di modo che ogni settimana quando pubblico un video vi viene la notifica e non vi perdete niente e tutte queste cose forse utili forse inutili che vi racconto tutte le settimane andiamo a parlare della routine di notte se l'altro giorno parlavamo della routine di giorno di mattina vi dicevo che la routine basica di mattina è composta da due passaggi la routine di notte basica è composta da due passaggi in cosa cambia la routine di giorno vi dicevo idratazione e protezione e da lì l'abbiamo complicata con tantissimi prodotti e tantissime alternative la routine di notte adesso mi concentro solamente sulla notte ha anche due passaggi detersione e idratazione non dobbiamo proteggere perché stiamo andando a letto si suppone che non c'è la luce non c'è il sole non abbiamo luce abbiamo tutto spento e quindi non abbiamo bisogno di proteggere la nostra pelle contro i raggi solari contro i raggi della tv del computer eccetera quindi detersione idratazione cominciamo dalla detersione di sera la detersione fondamentale di mattino la possiamo saltare se la nostra pelle è pulita ma di notte è fondamentale perché siamo tutto il giorno fuori di casa al lavoro entriamo in contatto con l'inquinamento dell'atmosfera ci mettiamo la protezione solare che un po' sporca il viso perché un pochettino più compatta quelli che si truccano hanno tutto il trucco quindi lo devono rimuovere quindi la pulizia la sera è fondamentale non si può fare una routine di bellezza fatta bene se prima non si comincia con una corretta pulizia e una corretta pulizia vuol dire che dobbiamo rimuovere tutto quello che c'era sulla nostra pelle e quindi la pulizia la possiamo fare in una pulizia a un passo o a due passi ci sono persone che anche utilizzano tre passi basico per questo utilizzare un buon detergente quindi se non hai trucco se solamente lavare il viso come nella routine di giorno e poi utilizzare lo stesso detergente se la tua pelle è secca utilizza un latte detergente senza sapone se la tua pelle normale mista o addirittura grassa utilizza un detergente che abbia il sapone perché aiuta a rimuovere tutto il grasso e tutti i residui e resti di creme protezione solare eccetera quella è la basica adesso la complichiamo un pochettino la detersione e quindi stiamo mettendo oh aspetta sì dai ve lo racconto adesso detersione e idratazione andiamo a detersione se ti sei truccata o ti sei truccato prima bisogna rimuovere il trucco quindi o utilizzi puoi utilizzare un olio per rimuovere il trucco che gli oli per pulizia del trucco del viso funzionano benissimo perché la composizione olio si porta via l'olio e quindi tanti prodotti cosmetici tanti trucchi sono formulati a base di olio hanno una base oleosa quindi quando noi passiamo un cottone con olio si porta via il trucco e pulisce bene se vogliamo anche penetrare sul poro e rimuovere tutto non utilizzare un tonico utilizzate utilizzate un'acqua miscelare perché l'acqua miscelare non irrita non ha l'alcol ha diverse particole di diverso grossore che vanno a pulire in profondità il poro quindi un'acqua miscelare e dopo un latte detergente o un sapone quindi in base a quanto trucco applicate quanto è sporca la vostra pelle un solo passo o due passi o tre passi la completa quella che fanno le coreane l'olio l'acqua miscelare e il latte detergente o il sapone detergente in base a quello se vedete che passate il cotone è ancora viene sporco vuol dire che bisogna detergere di più va bene poi quello è il primo passaggio la detersione che lo abbiamo scomposto in tre fasi in tre passaggi di detersione io faccio solamente una che è quella con con il sapone detergente alla sera perché non mi trucco a volte uso qualche crema colorata utilizzo una protezione solare un pochettino colorata quindi prima utilizzo l'acqua miscelare e poi utilizzo il sapone detergente va bene da lì poi passiamo all'idratazione e quindi una crema idratante che può essere la stessa che avete utilizzato di giorno non avete bisogno di più e come vi dicevo nel video della scorsa settimana la crema idratante adesso a me piacciono tantissimo quelle che hanno le ceramide che sono delle molecole lipidiche grassi buoni che vanno a creare un film di protezione della pelle per mantenere l'idratazione interna della nostra pelle quelli sono i due passi basici di una routine di notte per una persona che ha 20 anni o che ha la pelle curata che non ha rughe che non ha macchie o che se ne frega delle rughe delle macchie ma vuole avere una pelle idratata nutrita non ha bisogno di altro solamente detersione idratazione e va a dormire la vogliamo cominciare a complicare complichiamola facciamola più più completa non complicata più completa e qua possiamo mettere di tutto e di più e soprattutto perché il momento dell'anno della notte per me è il momento della cura della pelle quando la pelle ha delle problematiche tipo sia l'acne sia la rosaccia la una pelle grassa una pelle sensibile una pelle con macchie una pelle con rughe una pelle con perdita di elasticità alla notte di notte scusate alla sera è il momento di trattare e di curare tutte queste cose perché perché i sieri e le creme che hanno realmente dei principi attivi potenti per risolvere questi problemi o per migliorare questi problemi sono molto forti a volte e utilizzati di giorno rischiano di creare macchie creare irritazione creare la comparsa dei brufoli quindi è meglio perché con il sole si fotosensibilizzano quindi è meglio al mio parere utilizzarli di notte perché anche c'è il momento di rigenerazione della pelle ed è tutto il nostro organismo il sonno la notte dormire è pensato a rigenerare tutte le nostre cellule tutte le funzioni cellulari e la pelle anche si rigenera quindi cominciamo a complicarla la routine farla più complessa iniziamo dal detergente o dal sapone detergente nel caso di voler fare una piccola sfoliazione che vai a togliere le cellule morte e addirittura se hai l'acne o hai una pelle grassa dobbiamo mettere un detergente un sapone detergente chiave un pochettino di acido salicilico per rimuovere e fare un peeling una sfoliazione leggera della nostra pelle sentire quella pelle bella pulita di notte non è obbligatorio ma può essere un sapone un pochettino più strutturato con una composizione un pochettino più completa dopodiché è l'ingrediente è stella meraviglioso è il re degli ingredienti di notte qual è il retinolo eccomi qua di nuovo forse avete sentito che c'è stato un taglio nel video perché la telecamera la camera fotografica rimasta senza batteria parlo troppo e quindi ho dovuto cambiare la batteria me lo diceva mia madre che parlavo tanto quando ero piccolo addirittura un psicologo diceva che mi dovevano dare dei soldi o dare dei premi se me ne stavo zitto un po di tempo ma va bene mi piace parlare penso che ho cose da raccontarvi che vi possono aiutare e qua ognuno è libero di sentirmi o non sentirmi torniamo alla nostra routine di notte l'avevo lasciato e quello che sarebbe l'ingrediente è stella il re degli ingredienti della routine di notte e avete un post nel mio blog nel mio sito web chi è il retinolo quindi abbiamo una routine basica due passi detersione e idratazione il retinolo il retinolo io lo uso principalmente in forma di siero quindi siccome in forma di siero dove lo metto seguendo lo stesso concetto la stessa regola che vi avevo dato nel video della routine di giorno gli ingredienti che si mettono sulla pelle per la nostra routine di bellezza vanno da quelli più liquidi a quelli più densi più espessi quindi se prima abbiamo deterso e poi abbiamo messo la crema idratante il retinolo essendo un siero essendo più liquido va a metà in mezzo tra la detersione siero e idratazione quindi lo mettiamo a metà il retinolo vi potrei fare mille video sul retinolo e li faremo ve li farò per espirare bene sul retinolo perché è un ingrediente basico della routine di notte quello che ha più studi scientifici in assoluto quello che realmente ha dimostrato che toglie le rughe rimuove le macchie unifica l'incarnato riduce i pori tratta anche l'acne serve quasi per tutto il retinolo ma il retinolo è un derivato della vitamina A è un derivato della vitamina A che lo potete trovare in farmacia e anche in profumeria in diverse concentrazioni tanto in siero come in crema io lo preferisco in siero ma utilizzo anche ogni tanto qualche crema idratante che contiene il retinolo nella mia routine di notte e quindi il retinolo è l'ingrediente l'elemento stella re della routine di notte vi è piaciuta la mia R spagnola quindi per quello vi dico la detersione il retinolo e poi l'idratazione sempre 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 che applicate un retinolo in siero dovete dopo applicare l'idratazione perché perché il retinolo prima non idrata e secondo secca la pelle irrita un pochettino la pelle quindi se non siete abituati a utilizzare il retinolo dovete utilizzare una concentrazione bassa e piano piano salire in concentrazione prima utilizzarlo una o due volte alla settimana una o due notti e poi aumentare la frequenza fino ad utilizzarlo tutte le tutte le notti quello abbiamo già creato una routine di notte a tre passi detersione siero con il retinolo al mattino vitamina C al mattino alla sera il retinolo anche se troverete qualcuno di retinolo con vitamina C e sono ottimi e poi l'idratazione vogliamo ancora complicarlo un pochettino di più non vogliamo mettere un siero per gli occhi con retinolo e specifico per gli occhi lo possiamo mettere un contorno occhi e come sempre vi dico non sono amante non ci credo nei contorni occhi idratanti perché penso che la stessa crema idratante che utilizzo per il viso mi serve a idratare gli occhi non ho bisogno di un'altra crema idratante per gli occhi mi occupa spazio e realmente non mi apporta niente di più di quanto già mi apporta una crema idratante viso ma sì che è vero che quando parliamo di contorni occhi che fanno qualcosa in più dell'idratazione lì sì che possiamo parlare e sì che ci credo nei contorni occhi nei sieri o creme contorno occhi ma che mi fanno qualcosa non solamente idratare mi tolgono rughe mi tolgono macchie mi tolgono le borse mi tolgono le occhiaie e quindi possiamo applicare un contorno occhi con il retinolo e il retinolo dei contorni occhi ha una concentrazione più bassa del retinolo del siero di retinolo per il viso quindi come lo applichiamo sempre è più liquido di solito è più liquido quindi detersione siero per il contorno occhi con il retinolo siero per tutto il viso col retinolo senza applicarlo sul contorno occhi che può irritare il contorno occhi questa zona che è più sensibile e poi l'idratazione va bene vogliamo complicare ancora di più e fare la nostra routine ancora un pochettino più completa mettiamo i tonici il tonico come sempre vi dico non sono un amante di tonici che hanno l'alcol ma sì dei tonici perché c'è questo concetto di chiamare a tutto tonico tonici che viene dal passato da quando c'erano quei tonici pieni di alcol che irritano la pelle che dicevano che servivano per bilanciare il pH quello è un concetto del passato purtroppo li continuiamo a quello che è liquido in bellezza in estetica lo continuiamo a chiamare tonico quali sono i tonici che piacciono a me di notte quelli che hanno gli alfa idrossiacidi o beta idrossiacidi voglio dire quelli che hanno l'acido glicolico l'acido salicilico l'azelaico il cogico il tranesamico qual'altro potrei il lattico per esempio sono tutti acidi con un pH basso che vanno a esfoliare a sfoliare a togliere le cellule morte e vanno a trattare anche le macchie anche le piccole rughe e soprattutto cosa fanno se mi tolgono la parte superficiale della mia pelle le cellule superficiali morte cosa sto facendo è stimolare a che si creino nuove cellule a che ci sia un turn over un ricambio delle cellule della mia pelle quindi mantenere che la pelle sia bella sempre con cellule giovani e quindi il tonico essendo liquido dove lo mettiamo? dopo la detersione quindi detersione tonico che si può applicare con le mani con un massaggio o si può applicare con un cotone con un disco di cotone e poi mettiamo il contorno occhi con il retinolo per esempio se avete le macchie io mi piace il retinolo ci sono anche quelli con l'azelaico che vanno molto bene ma quello ne parleremo e poi mettiamo il siero per tutto il viso con il retinolo e poi la crema idratante vogliamo complicarlo ancora di più vogliamo mettere un altro siero con un altro ingrediente fantastico per la notte e che si può mettere insieme al retinolo la niacinamida la niacinamida è la vitamina B3 e ha dimostrato che avassa il rossore del viso nelle persone che hanno la rosaccia o che hanno un viso che si irrita chiude i pori e dà un tatto super vellutato alla nostra pelle e quindi quando applichiamo la niacinamida è un siero quindi lo possiamo mettere prima o dopo il siero di retinolo quindi possiamo utilizzare due sieri va bene e dopo l'idratante quindi detersione tonico con siero contorno occhi con il retinolo sieri che possono essere il retinolo o niacinamida o niacinamida retinolo poi crema idratante e abbiamo adesso una routine molto più compacta molto più completa la vogliamo complicare ancora di più come la facevamo nella routine di giorno mettiamo alla fine di tutta la routine possiamo mettere un olio per le persone che hanno la pelle molto secca si può applicare due tre gocce di olio nei palmi delle mani si strofinano le mani per distribuirlo bene sui palmi e poi tamponiamo senza sfregare solamente tamponare di modo che stiamo creando un film di protezione lipidico che evita l'evaporazione dell'idratazione intrinseca della nostra pelle specialmente quando utilizziamo il retinolo che il retinolo irrita un pochino un pochettino secca un po' la pelle quindi vogliamo mantenere al massimo l'idratazione della pelle il retinolo farà la sua funzione a prescindere ma noi vogliamo mantenere la pelle idratata e quello sarebbe una routine bella corposa bella completa di note si possono utilizzare altri composti si si possono utilizzare altri ingredienti si li possiamo mettere di qua di là lo possiamo fare più complessa in base a quelle che siano le necessità della tua pelle se vogliamo trattare più macchie se vogliamo trattare più rughe se abbiamo una pelle bella e la vogliamo mantenere in quello andrò a farvi diversi video se li volete chiedetemi voi così mi date anche idee di cosa pubblicare perché se per esempio avete l'acne dobbiamo utilizzare questa routine ma con altri composti se avete le rughe possiamo intensificare il retinolo se avete le macchie possiamo utilizzare altri composti pensati più sulle macchie quindi dalla routine basica due cose detersione e idratazione a una routine quasi in dieci passaggi spero che vi sia che vi sia utile questo video questo video tip di bellezza di cura della pelle di skin care ci saranno altri video vi spiegherò anche in un altro video forse quale sono la differenza tra tutti questi ingredienti di modo che quando andrete in farmacia in parafarmacia anche in profumeria o quando leggete i vostri giornali di bellezza possiate capire di cosa stiamo parlando e possiate utilizzarli abbinandoli correttamente senza creare casini va bene come vi dicevo spero che vi sia utile vi saluto a tutti grazie per seguirmi se avete domande se avete dubbi eccetera li potete scrivere qua sotto nella casetta nella scatolina delle domande o mi potete contattare tramite instagram facebook il mio sito web info che ho c'è la dottorluiscampos punto com e vi risponderò a tutte le vostre domande vi saluto vi auguro un buon proseguimento di giornata o buona fine di giornata secondo quando mi stai vedendo oggi qua è giovedì quando sto registrando questo video e quando lo pubblico lo pubblicherò tra un po' e niente come vi dicevo ogni giovedì tento di farvi un nuovo video e vi saluto a tutti grazie a tutti